L'evidence-based ipnoterapia è considerata uno dei principali modelli di psicoterapia basata sull'ipnosi e l'istituto Watson è l'unico centro italiano ad essere stato riconosciuto come training school in ipnoterapia e psicoterapia dalla REBHP, Register for Evidence-Based Hypnoterapy e Psychotherapy. Il master è rivolto a psicologi medici che vogliono migliorare la loro professionalità imparando ad applicare attraverso l'ipnosi i protocolli e le tecniche cognitivo-comportamentali. Ricordiamo infatti che l'ipnosi non è un metodo di cura ma è uno stato in cui è possibile utilizzare qualsiasi tipo di terapia o tecnica psicoterapeutica. Il master sarà strutturato su tre livelli. Nel primo livello si apprenderà a utilizzare le tecniche ipnotiche e tutte le strategie di suggestione e di auto-ipnosi. Nel secondo livello si imparerà a effettuare una valutazione del paziente per personalizzare il trattamento. Si identificheranno i suoi punti di forza e quelli di debolezza per determinare individualmente gli obiettivi terapeutici da raggiungere. Si studieranno le strategie per migliorare l'umore, controllare l'aggressività, gestire lo stress e sviluppare un atteggiamento positivo. Nel terzo livello si impiegheranno tutte le principali tecniche nel trattamento dei disturbi d'ansia, quali il panico, le fobie, i disturbi ossessivi, la depressione, i disturbi alimentari e l'obesità. Il corso avrà la caratteristica di essere prevalentemente pratico partendo dal presupposto che tutto ciò che possiamo dare a noi stessi è anche ciò che possiamo trasmettere agli altri.